Quando vogliamo legare un'immagine o un video in Classroom, come facciamo? Cominciamo dall'inizio. Apriamo Classroom. Entriamo nella nostra classe. Clicchiamo su Lavori. Clicchiamo sul compito in cui dobbiamo legare qualcosa. In basso, clicchiamo sulla freccetta e si aprirà una finestra con scritto più aggiungi allegato. Clicchiamo sul più e vedremo una finestra con una serie di collegamenti. Se clicchiamo su File vedremo una finestra con altri collegamenti. Se andiamo su Galleria troviamo immagine e video realizzati da noi. Scegliamo quello che vogliamo allegare e clicchiamo. Vi troveremo il file nella pagina degli allegati. A questo punto non ci resta che cliccare su Consegna e il nostro prof troverà il file nel nostro compito.